wow sì ho vinto wow sì ho vinto sì ragazzi ora basta giocare è troppo alex sì certo jason sì pronto ragazzi basta giocare no no idea spento niente più wi-fi non posso giocare ma ho un telefono non funziona più no non funziona ho un telefono state giocando ancora datemi subito quei telefoni avanti no non lo faremo affatto ragazzi ma da che cosa dammi qui ho detto ehi vieni qui no andate a giocare fuori non vogliamo giocare fuori no ce li dai ti prego no ti prego ridacceli no ti prego ridacceli per favore giocare fuori giocare fuori che cavolo ma adesso che cosa facciamo qui non lo so proprio niente più telefoni che noioso che è così è una noiosità pazzesca cavolo giocare all'aperto è molto molto meglio diamine jason che barba ha un'idea senti un po qua forza vieni da questa parte sì vieni entreremo di nascosto ok muoviamoci entriamo sì entriamo di qua oh che bello faremo franca ok tu vai al wifi forza corri 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 di là piano ti prego schiaccia lì è acceso adesso andiamo a giocare oh evviva sì evviva giochiamo giocano ancora smettete di giocare ok allora spengo il wifi ecco lui viene con me se volete ancora giocare su internet con il wifi dovete andare fuori o niente più wifi vai più ok ok giocheremo fuori non c'è di nuovo internet giocherò fuori è noioso noiosissimo non gli piace proprio giocare all'aperto ho un'idea oh guardate ragazzi un monopattino elettrico oh guarda lì jason mi sa che è davvero divertente il monopattino è davvero bello giocare fuori è divertente dieci nove oh no la scuola inizia tra dieci secondi otto sette oh no io non volevo fare tardi ti prego aspettami sei cinque cinque secondi oh no manca pochissimo sono arrivato in orario professoressa guardi due uno sono arrivato anche io in orario ciao sono in orario puntualissimi ragazzi puntuali come un orologio ciao jason ciao alex hai visto il mio pop it oh ma certo e guarda qui il mio ok oggi impareremo a conoscere le forme che forma è questa penso che sia un triangolo secondo me è una cacchina sbagliato alex sbagliato jason è un quadrato e questa forma cos'è una mucca sbagliato alex è un cuore ottimo lavoro jason è un cuore e questa forma invece nel caso è un cagnolino sbagliato alex secondo me è una stella ottimo lavoro jason ma io non conosco tutte le forme ok ragazzi è il momento della prossima lezione facciamo un po di inglese che succede fratellone ho in mente uno scherzo divertente ti prego metti questo e tu che sei tesoro alex jason dove sono alex e jason niente bambini piccoli in classe fuori ok andremo fuori professoressa dove saranno alex e jason troviamoli sarah non ci troverà mai così alex jason dove siete sarah non ci troverà mai così alex jason tornate in classe oh ci ha trovato ok ragazzi e ora impariamo i colori questo è giallo questo è giallo alex ora tocca a te ho in mente uno scherzetto questo è giallo ma che cosa è successo aspita non lo so va bene passami il prossimo questo è rosso rosso ecco a te rosso ehi non riesco proprio a capire che succede sentiamo com'è possibile che fine hanno fatto i palloncini e questo è verde verde fai attenzione mi raccomando verde è il mio colore preferito no non ci credo ma che succede non ci credo e questo è blu 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 i miei vestiti sono tutti bagnati prendi il prossimo beh il blu è il colore ma non ci credo smettila guarda che non ho niente in mano e allora chi è stato sentiamo che sta succedendo questa volta dacci due palloncini insieme così non scoppieranno va bene questo è arancione e questo viola viola e arancione forza dammeli qua professoressa questi sono viola e arancione no smettete di far scoppiare i palloncini ma tutti i miei vestiti sono bagnati Alex si è fatto la pipì addosso Alex vai a casa e cambiati i vestiti yeah divertente un due tre uno due tre ah è la tua coach si ok prenderò il telefono pronto Alex e Jason venite subito qui avanti state mentendo di nuovo si si veniamo ad allenarci veniamo subito ok Jason corriamo ad allenarci forza forza Jason corri prendiamo queste si vola ehi Jason dobbiamo correre forza dobbiamo muoverci questa bici è troppo piccola non faremo in tempo Jason fermati dobbiamo prendere la macchina forza va bene mettiamo le bici in macchina Jason una e due e la seconda molto bene Jason ok adesso si che va meglio sbrigati Alex forza andiamo ok ok andiamo forza siediti siediti siamo in super ritardo Jason sei lento sono velocissimo dobbiamo fare in fretta siamo quasi arrivati wow sei troppo lento Jason troppo lento wow finalmente eccole qui finalmente siamo arrivati Jason eccoci qui eccoci qui eccoci qui coach eccoci siete in ritardo quindi esercitatevi subito avanti ok fammi andare per primo fammi andare per primo vincerò lo so molto bene e ora fate pratica con il numero due avanti cominciate subito noi andiamo stupendo noi siamo pronti ragazzi ma che diavolo avete in testa? è un cappello è un cappello no no un casco serve un casco mi dispiace scusaci iniziate avanti forza vincerò io ok va bene non siete così male state andando bene no Jason no Alex ma che diavolo state facendo ragazzi ma che diavolo fate prossimo allenamento no ci scusi alla prossima Jason Alex Jason dovete gareggiare avanti 3 2 1 via ok vincerò sono il migliore no perderò forza forza ragazzi in fretta avanti oh sì oh no ho perso ho perso sì ho vinto questa gara oggi ottimo lavoro Jason hai vinto Alex è un perdente Alex sei stupido per caso hai fatto tutto male oggi avanti tornatene a casa e venite puntuali la prossima volta